Benvenuti in un nuovo video! Mi scuso per le condizioni ma per chi mi segue su Instagram già sa che sono appena dentro dalla palestra, infatti sono le 4 e mezza e chi mi segue veramente, chi mi segue assolutamente sa che io a quest'ora faccio, quindi... Però sono qui per farvi il video dello mega spacchettamento Prozis. Vi dico solo che già l'ha aperto perché... cioè, è enorme! Quindi mi scuso per le condizioni, spero che la luce è... Mi scuso per il verde ma io inizierei veramente subito, 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 mi avvicino il pacco. Sono curiosa, sono veramente contenta, ho fatto questo ordine insieme a un mio amico e quindi vi faccio vedere alcuni omaggi che tenevo, che ho preso con i punti, che avevo dei punti accumulati, quindi ho preso un bel po' di cose e poi anche tramite un codice sconto mi hanno regalato delle cose, quindi vi faccio vedere un po'. Però non mi ricordo, sono sincera, non mi ricordo. Allora ho messo il colpello ma... La prima cosa che mi salta all'occhio sono queste proteine diet shake. Sono proteine... sinceramente non ci ho fatto caso, sono proteine oppure sono quei cosi. Penso che sono proteine. Sono proteine in polvere se non mi sbaglio perché questo qui è stato un omaggio. Sono dieci bustine gusto fragola della diet. Come sapete a me le barrette diet non mi sono piaciute, quindi incrocio le dita che sono buone. Io metto a terra, poi poi faccio vedere. Ho voluto prendere questa marmellata, come ben sapete io amo la marmellata e quindi ho voluto prendere questa qui alla mela. Speriamo bene che è buona e non fa schivetto perché poi c'era anche quella dalla pera, questi gusti così, quindi speriamo ed è questa qui della Zero della Prozis. Spero, 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 quindi seguitemi su Instagram ma anche nei prossimi video prodotti finiti e che vi faccio sapere. Mettiamola qui. È un bel barattolone, devo dire la verità, da 370 grammi. Quindi, se non mi sbaglio, quello là della Hero sono 2,50 grammi, ma non voglio dire scemenze, ma se non mi sbaglio sì. Poi per voi abbiamo uno scatolo. Dove l'ho messo il coltello? Basta a terra. Ho fatto cadere la marmellata? Ok, questo video è un po' così. Allora, questo qui è il burro da raggi. che ho preso. Ah, ho detto lo scatolo, scusatemi la scatola. Scusatemi, scusatemi, adesso mi ucciderò sicuro. Ho voluto prendere... Questo qui arriva così, è il nuovo burro da raggi dei Peanut Butter Classic Smoothie. Questo qui è 450 grammi. Ho voluto prendere il piccolino perché ho sentito davvero tantissimi pareri discordanti. È buono, non è buono, è buono, non è buono. Allora, ho detto Giulia, fa una cosa. Con 3,50 euro prenditi il vasetto piccolino, anche se... Facciamo un po' i conti, non conviene, conviene prendere il grande che sta sui 5,90 euro, non mi ricordo. Quindi a qualità prezzo per il prodotto non conviene perché comunque sono 4,50 e sta quasi 4 euro. Però ho detto prendilo, provalo. E poi, ma che va, prendi quello grande, perché io prendo sempre quell'altro lì, quello lì nella confezione rossa, il mio solito. E quindi l'ho voluto prendere, è questo qui, non sapete, io amo il burro da raggi, quindi ci stava. Sì, ogni tanto faccio così, ma... Dettagli. Quindi, come voi, ho voluto prendere due barrette perché, non lo so, però se settimana prossima devo partire, gita scolastica, e quindi essendo che abbiamo il pranzo, comunque che dobbiamo scegliere noi dove vogliamo andare, eccetera, se non mi va, ho portato queste due barrette, oppure se mi verrà fame camminando, ho voluto prendere queste due barrette. Che, come sapete, sono 100 grammi, e hanno comunque, sono ben caloriche, però saziano molto. Allora, questo qui è il gusto cioccolato, che mi è piaciuto davvero tanto, sto parlando delle Energy in Cake. E poi questo qui ha il gusto yogurt. Sono sempre uguale a Energy in Cake, ho detto, vabbè, prendiamole. Poi sono sempre, sono sempre utili poi, come sapete, a volte io anche se sto a casa le mangio. Poi, 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 questo mio amico ha voluto prendere il multivitaminico, che io mi ci trovo da Dio, e il suo personal trainer, che l'ha consigliato di prenderli, e quindi mi ha chiesto a me se io le prendevo. Eccole qui, è il solito multivitaminico, che io adoro, mia sorella adora, e quindi è straconsigliato. Come poi, sempre il mio amico ha preso la creatina, creatine, creatina, creatina, sì, quella qui da 300 grammi della Prozis. Allora, io sono innamorata di questi barattoli della Prozis. Oh mio Dio, guardate qui, ha scritto com'è, è tipo in gomma. No, io adoro. Poi io amo il rosso, il rosso è il mio colore preferito, e quindi, cioè, questo barattolino è stupendo, veramente, veramente bello. Se vi vedete come sto appoggiando le cose, che se cade questo barattolo cade tutto. Cioè, no, quello ci vuole un prima e un dopo, cioè, ci vuole uno che mi filma così, e uno che mi filma da dietro, perché c'è un marasmo. Ma va bene. Poi, come maggio, ho voluto prendere queste qui le Whey Prime isolate. Proteine isolate, queste qui, ho voluto prendere perché, sapete, che spesso le prendo perché, comunque le uso perché, 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 hashtag perché. Quindi se siete arrivati fino a questo minuto del video, hashtag perché, oh. Queste qui non mi ricordo il gusto. Cioccolato. Gusto cioccolato, che di solito le gusto cioccolato, non si sbaglia mai. Poi, 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 ho voluto prendere, questo come l'ho preso? Vabbè, comunque ho preso questo qui, gluten free muffin, scadenza 4 aprile, che anche questo le voglio portare con me. E sono due muffin al cioccolato. Questo qui è senza glutine. Madonna mia, io le amo, cioè, guardate come sono belli. Di solito io preferisco la versione senza glutine, che mi piace, risulta molto più morbido. Infatti, io l'altra volta presi, quello là senza glutine però ha gocce di cioccolato. Sì, ha gocce di cioccolato. E poi presi anche quello là alla mela. Quella alla mela, non mi, quella alla mela presi normale, non mi ricordo. Comunque, mi ricordo che quello là alle gocce di cioccolato e presi questo qui era davvero qualcosa di eccezionale. Quindi, veramente, se non avete visto i miei video prodotti finiti, andateli a vedere, perché in ogni video ci sono prodotti Prozis. Perché, comunque, è un brand che a me piace tantissimo e quindi adoro. Io, quando faccio ordini su Prozis, sono la ragazza più felice del mondo. Beggio di una proposta di matrimonio. Poi, 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 il mio amico ha preso il collagene. Eccolo qui, a capsule. Anzi, no, non l'ha preso lui. Se voglio che lui non mi abbia ordinato niente di impasticca. Allora, praticamente, con il codice sconto di questa ragazza, che io poi vi amo, io vi adoro, perché sicuramente la ragazza che mi ha consigliato questo codice sconto vede tutti i miei video, quindi sicuramente anche questo lo sta vedendo. Io ti mando un bacione in mezzo, perché mi ha consigliato, ha detto, guarda che su Prozis, con il codice sconto di questa ragazza, spendendo tot, infatti pure ho fatto un bello ordine, spendendo tot ti dà tot regali, o ti dà tot sconto, sempre del 10%, e quindi c'è, adoro, veramente adoro. Quindi, grazie mille che mi hai consigliato questa offerta. Un bacione. E comunque mi hanno regalato questo collagene, quindi io spero bene, sperammo, bene, bene, bene. Mocate tutto. Poi, 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 che poi io mi devo, sono un po' confusa in questo video, forse si vede, sono stanca, un po' con questa luce così, quindi io devo vedere come devo inserirlo, comunque, è tutto, a cosa serve, bene, perché non mi sono informata, però ho detto, va bene, lo regalano, prendiamolo, e quindi mi voglio informare bene prima di prenderlo. Soprattutto su queste cose, io ci tengo tanto. Poi, 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 ho voluto prendere queste Zero Chips Gusto Barbecue, che queste qui le abbiamo provate insieme in un video, e mi sono piaciute davvero tanto. Poi, poi, questo non c'era, boh, non lo so se lo comprate, ma non penso. Comunque, questa confezione da tre parrette, penso sempre con il codice sconto, non mi ricordo, queste tre parrette Diet Bar with Chocolate e il lampone, a me non è piaciuto. Bene, comunque, sono tre barrettine, eccole qui, Comunque, vi consiglio, apri un'altra parentesi, vi consiglio di seguirmi su Instagram, perché al raggiungimento dei mille iscritti, però, vi sto parlando del canale, Yami, Julie Yami Fit, si, adesso abituati con Elty, Les Absent, e non vi ricordo neanche il nome, ma voi sotto trovate sempre tutto. Seguitemi su quel profilo, perché al raggiungimento dei mille iscritti, ci sarà un bellissimo giveaway, che già vi sto dando uno spoiler, quando vi ho fatto vedere queste, così vi do anche a voi la possibilità di provare cose nuove, e vabbè, si sa con che prodotti lo farò, però, non ho detto niente, ma seguitemi su Instagram, e quindi, vabbè, mi hanno dato anche le diet, vabbè, poi, io ho voluto prendere questa barretta, oppure con i codici sconti, vabbè, non mi ricordo, Zero Milk Chocolate, mandorle, alle mandorle, quella qui, io le amo, questi qui, a cioccolato, Zero Milk, soprattutto quella là con il riso soffiato, sembra di mangiare un Kinder Cereale, quindi, adoro, vabbè, poi, mi hanno regalato, un mega pacco, di muffin, al cioccolato, questo c'è una scadenza, vediamo la scadenza, non è nata in una propria, 31 marzo, comunque, è un pacco da 6, di muffin, al cioccolato, voglio aprire, eccolo qui, sono 6 muffin, e sono al cioccolato, penso, cioccolato fondente, io li amo, questi muffin, tengo ancora quelli là, al caramello, sì, voi non l'avete visto sullo YouTube, perché vi ho fatto lo spacchettamento, su Instagram, io ancora non li provo, però mi devo cuore, perché tra poco scatolo, e quindi, eccoli qui anche al cioccolato, poi, 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 ho voluto prendere questo peanut butter, al cioccolato, madonna mia, non vedo l'ora di provarlo, eccolo qui, il peanut butter, al cioccolato, adoro, poi, 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 ho voluto prendere da dare a questo mio amico, e poi, gli darò anche altre cose, perché, qualsiasi persona che ordina, ordina da me, comunque fa, comunque, su prodis, una bella spesa, di solito, gli do sempre qualcosa, quindi, anche a lui, gli darò qualcosa, e quindi, ho voluto prendere queste zero barra al peanut butter, eccolo qui, di solito, a volte, mi capita che, quando ordino da me, essendo che faccio sempre il contrassegno, tipo, fago io la spirilla, mi lo contrassegno, e quando mi capita di fare così, io non, di solito non gli do gli omaggi, però, quando è, mi piace proprio dare gli omaggi, quindi, sempre, quindi, chi ordina, fa l'ordine con me, va sempre bene, da una parte, e dall'altra, e quindi, eccola qui, zero barra peanut butter, sia un po' un video chiacchiericcio, così, ci piace, ci piace, ci piace, poi, 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 però, se non mi sbaglio, anche il burro da rapidi, era con, il codice sconto, sì, non mi ricordo, vabbè, comunque, tutta sta roba, alcune le ho acquistate io, alcune con il codice sconto, questo con il codice sconto della ragazza, anche le diet, perché io non le ho ordinate, perché sì, le diet me le ho andate, perché non c'era la farina per i pancake, sicuro, e poi, anche il burro da rapidi, e anche questa bottiglia rossa, firmata a Prozis, cioè, ma quanto è bella, quanto è bella, cioè, quanto è bella, mocare stromba, immaginate, vediamo un po' com'è, è di plastica, noi di vetro, madonna mia, cioè, ma quanto è bella, no, vabbè, mamma mi uccide, perché c'è nata, non lo dico, c'è il tappo così, madonna, è stupenda, madonna mia, cioè, guardate dentro com'è tipo di pizzo, adoro, 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 poi, poi, possiamo, prima che io, rompo qualcosa, perché ormai, sapete io come sono, madonna, io sto vedendo delle cose molto belle, poi, aspettate un attimo, mettete un rimbotto, allora, questo mio amico, ha preso il malto dextrin, malto dextrin, non lo so, comunque, questo prodotto qui, chi lo usa, lo fa io, sinceramente, non mi sono neanche applicato, io l'ho ordinato e basta, sempre prozzi, eccolo qui, malto dextrin, dextrin, vabbè, ma tutti i sottofossibili, vabbè, vabbè, comunque questo, vabbè, poi, oh mio Dio, voglio vedere, qual è il mio, qual è il suo, ok, questo qui è il suo, 100% whey prime, eccolo qui, allora, questo, anche io l'ho preso, ma dopo, ve lo faccio vedere, questo è il gusto cioccolato, eccolo qui, sono le proteine in polvere, questo qui è la confezione nera, e questo è da un chilo, invece, io ho voluto prendere, per provarle, queste qui da 400 grammi, sempre gusto cioccolato, allora, ho voluto prendere queste qui, perché rispetto alle altre, vedendo, sono un po', meglio, sono un po' medio, non si può dire, secondo me, sono migliori, sono migliori, e quindi, l'ho voluto prendere, piccolissimo il pacco, però ho detto, prima di prendere, la confezione grande, prendo queste qui piccoline, e quindi, lo prendo prima, perché di solito, uso le rosse, se non mi sbaglio, qui dentro, non c'è neanche la, fatemi vedere, no, se non mi sbaglio, non ci sta, no, non ci sta la gomma, istantanea, vabbè, c'era, comunque, l'ho voluta prendere, questo basso, mi ispirava, perché ogni tanto, voglio cambiare, poi, 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 ho preso, due, cosine, molto belle, iniziamo, con la prima, che ve le farò vedere, anche indossate, eccola qui, tagliate, in sese, colore nero, si stava spezzando, nulla, colore nero, vediamo, se ho fatto, la strusata del secolo, madò, quanto è bella, vabbè, ve la faccio vedere, anche indossata, comunque, è nera, con la scritta qui, argento, corta avanti, e lunga dietro, quindi, ho voluto prendere, un XS, perché mi sembrava, un po' troppo grande, ma perché, di questa vogliamo parlare, azzeccatissima, a prenderla, XS, mamma mia, è uno spettacolo, è fatto davvero bene, sembra tipo, il materiale, di chi va in bicicletta, di ciclisti, madò, è stupenda, con questa scritta, madò, adoro, è fatto davvero, davvero bene, stupenda, veramente, veramente, bella, innamorato, bella, adoro, e poi, ho voluto prendere, un'altra maglia, che, secondo me, in quel momento, era in fissa, con il nero, veramente in fissa, oh, mio Dio, quant'è bella, era in fissa, con il nero, e ho voluto prendere, questa qui, che è nera, con, la scritta, nera, è Ugaon, con la scritta, gialla e bianca, I am, my, inspiration, io sono la mia, ispirazione, giusto, quindi, invece di questa qui, ho preso la, S, è uguale a quella, la bianca, poi non l'avete vista, comunque, ho acquistato, della pro, esiste anche la maglietta, bianca, però non mi ricordo, come è, e Z, della linea, Power Up, oddio, è stupenda, io sono innamorata, quindi, allora, questa è la prima maglia, come vedete, ho fatto bene, a prendere, una S, perché, va veramente giusto, se prendevo la XS, non mi entrava, comunque, questa è la maglia, io la amo, è stupenda, è fatta davvero bene, anche la scritta, andiamo con la seconda maglia, non vi ho fatto vedere tutto, sì, vi ho fatto vedere tutto, quindi, questo è stato il mio haul, e nulla, io spero che questo video, vi sia piaciuto, mi raccomando, se questo video vi sia piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, perché, al raggiuntimento dei 1000 iscritti, partirà subito il giveaway, e nulla, io vi mando, un grandissimo bacio, ciao, ci vediamo nel prossimo video, non mancate!